Qual è la novità di questo saggio? Che il cardinale Mariannag non si limita a denunciare gli effetti dei certi modi di produzione e le conseguenze che ne derivano, quelle che sono a conoscenza di tutti, povertà, relative assolute, disoccupazioni in aumento e via discorrendo, ma si interroga sulle cause generatrici di tali effetti e il suo invito a volte molto accorato è quello di procedere in fretta a rimuovere quelle cause. Ecco allora che bisogna intaccare il modo di produzione, i modi con cui si produce la ricchezza, perché intervenire post factum, dopo che un certo reddito è stato ottenuto è troppo tardi e comunque non è sufficiente. Questa direi è l'idea guida che attraversa questo saggio e che evidentemente deve obbligare tutti a prenderli in considerazione. Ovviamente non è compito di un cardinale suggerire le forme concrete ed è compito questo degli addetti ai lavori, dalla società civile organizzata, degli economisti suggerire forme per modificare il momento della creazione del reddito della ricchezza. Però il richiamo che il cardinale in questione rivolge a tutti, ma in particolare ai cattolici, ai credenti cattolici, è un richiamo molto forte e per certi aspetti innovativo. Quindi chiaro le forme nuove della Caritas e di altre associazioni, il cardinale è anche il presidente della Caritas internazionale, se quindi lo sa bene, non può essere solo quello di essere un distributore di pacchi, di pacchi di alimentari, di vestiario etc., deve diventare una voce profetica nel senso di chi anticipa quello che successivamente dovrà avvenire e accadere. È sempre stato così nella storia della civiltà cristiana. Persone che si alzano e che giocando d'anticipo indicano e direi che la profezia, la capacità profetica di questo cardinale è legata alla sua fede profonda, perché il cristiano spera non perché fa dei progetti lui, ma perché si ricorda di una promessa, è di una promessa piuttosto antica ed è questo che dà forza ad andare avanti nonostante tutte le difficoltà.